Proseguono presso l'ospedale civile di Pescara e controlli da profilassi coordinati dall'unità di crisi della ASLA a seguito del caso di meningite dei giorni scorsi. Sono oltre 100 le persone che hanno effettuato le visite direttamente in ospedale o attraverso le guardie mediche, mentre i risultati, circa la sottotipizzazione del ceppo killer che ha causato la morte del povero Andrea Montebello, non arriveranno prima dell'inizio della prossima settimana. I prelievi sono già stati inviati all'Istituto Mayer di Firenze e all'Istituto Superiore di Sanità di Roma. Una volta acquisiti gli esiti, comunicano dall'ASLA, sarà indetta un'apposita conferenza stampa per fare il punto della situazione e trarre un conclusivo bilancio. Ad oggi comunque, assicurano sempre dall'unità di crisi, non si segnalano altri casi sospetti a conferma del fatto che si sia trattato di un episodio per quanto tragico ma isolato. Su fronte della prevenzione, pur ribadendo che i luoghi maggiormente frequentati dalla vittima, in particolare una discoteca a Pescara, non sono in alcun modo coinvolti, sono in corso attività di sanificazione. A tal proposito, stamattina siamo tornati alla discoteca Cube di Via dei Peligni, circolo del quale Andrea era socio, per verificare a che punto sono le opere prescritte da ASL e dai carabinieri della NAS. I tecnici dell'ASL, al termine del sopralluogo, hanno concesso l'autorizzazione alla regolare apertura prevista per la stasera con massima soddisfazione da parte dei titolari che in questi giorni sono finiti il loro malgrado nel tritacarne mediatico, dovendo fronteggiare anche false indiscrizioni su presunte ordinanze di chiusura mai emanate.